Ecco sì, io resto a casa, approfittiamone per leggere dei libri, mi raccomando, io resto a casa. Hai detto pipì? Frick, due passi, fai la pipì, perché scappi? In queste situazioni, Frick, bisogna bere molta acqua, bisogna sempre mantenersi idratati. Vieni, bevi, bevi tanta acqua, Frick, bevi, bevi, è importante restare idratati, Frick. Crocchette alle prugne, pss, pss, salve, sì, sì, ha già fatto pipì stamattina, Frick, certo, ma guardi, ma lo porto fuori io, non c'è problema. Ha già anche cagato, certo, sì, tre volte, sì, stia a casa, legga un libro, grazie, stia a casa. Dai, vieni, ti metto il guinzaglio, andiamo fuori a fare una passeggiata. Pronto, salve, sì, sì, tutto bene, leggo molto, ma sì, Frick, un po' stitichinolo. Lo vedo, sì, caga, ma non abbastanza. Mi chiedevo qualcosa, tipo un lassativo? Andiamo a fare la pipì, Frick, ti è sempre piaciuto facendo i passi, dai! Frick, hai detto pipì? Sì, certo, non c'è problema, sono 50 euro per un'ora, le porto Frick, certo, il solito posto, tutto certo, nel suo garage, io aspetto lì e lei può fare il giro, sì, sì, si può fare, può stare in giro un'ora, sì, sì, io sto lì ad aspettarla, io leggo un po' magari, eh? 50 euro, sì, salve.